Sono 223 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata di oggi, vigilia di Natale nella nostra regione, casi di età compresa tra 1 e 93 anni. Un risultato che viene fuori dall'analisi di oltre 5.000 tamponi, per la precisione 5.119, che restituiscono una percentuale di positivi sul numero di test processati pari al 4,35%, in linea con l'andamento degli ultimi giorni. Dei 223 risultati aver contratto il virus, 67 fanno riferimento alla Asla Aquilana, 71 a quella teatina, 27 a quella pescarese e 55 a quella teramana, mentre 3 sono i casi per i quali la residenza è ancora da accertare. Sono 5 invece le vittime, delle quali 2 che però fanno riferimento alle giornate scorse e che sono state però comunicate ufficialmente dalle aziende sanitarie soltanto oggi. Aumentano i guariti, che superano quota 21.000, attestandosi a poche ore dalla festività natalizia a quota 21.248, con un aumento di 543 unità rispetto a ieri. Calano gli attualmente positivi, che scendono di 325 unità e adesso sono 11.694, così come scende il numero di persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Sono 306 in meno e il decremento porta il numero complessivo a quota 11.168. Buone notizie anche per quanto riguarda gli ospedalizzati, che scendono complessivamente di 19 unità. 15 in meno coloro che sono ricoverati in reparti dell'area medica, mentre 4 in meno sono coloro che sono ricoverati in reparti di terapia intensiva. Complessivamente sono 491 le persone in terapia non intensiva, mentre dopo questo ulteriore e leggero calo arrivano a 35 quelli in terapia intensiva. Grazie a tutti.